è stata secondo me la miglior partita da quando abbiamo cominciato per intensità ordine e voglia di vincerla a livello di occasioni secondo me ce la siamo giocata alla pari perché come le hanno avute loro ne abbiamo avute parecchie anche noi purtroppo sul singolo episodio sui singoli episodi un po per sfortuna un po anche per dei meriti nostri non siamo riusciti a portarla a casa c'è un po di rammarico perché sarebbe stato un punto ma poteva anche essere una vittoria molto importante per la classifica se giochiamo sempre così penso che sarà difficile non centrare i playoff anche lì dobbiamo migliorare sugli episodi perché i punti lasciati per strada cominciano a essere tanti e tutti non tanto per prestazioni negative quanto magari per per episodi sfortunati dettagli a volte da distrazioni o da un po di sfortuna anche